Ben trovati con l'informazione di Napoli Village News in redazione Raffaele De Lucia. L'Accademia delle Belle Arti di Napoli, presieduta dal professor Sergio Sciarelli e diretta dalla professoressa Giovanna Cassese, ha presentato lo spettacolo teatrale Peter Pan a cura della scuola di didattica dell'arte, coordinata dalla professoressa Gabriella Spizzuoco, con la collaborazione della scuola di scenografia del professor Angelo Lafera. La rappresentazione, liberamente ispirata al romanzo Peter Pan e Wendy di James Matthew Berry, è stata ospitata negli spazi del teatro dell'Accademia Antonio Nicolini e il risultato conclusivo dell'iniziativa La settimana dei piccoli in Accademia, che ha visto per due settimane, a partire dallo scorso 25 giugno fino al 6 luglio, la partecipazione di circa 40 bambini tra i 6 e i 10 anni impegnati a cimentarsi nelle vesti di registi, scenografi ed attori. Ciò a cui ha assistito il pubblico non è stata una semplice esibizione teatrale, piuttosto la prova tangibile del percorso laboratoriale, inteso come processo tecnico, conoscitivo ed educativo, volto all'apprendimento e al confronto con le arti a cui hanno preso parte i bambini. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato la direttrice dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli, la professoressa Giovanna Cassese. L'Accademia è un mondo magico anche per i bambini che scoprono d'estate come d'inverno quando apriamo alla città, un mondo per vedere anche lo spettacolo e le arti in maniera diversa. Peter Pan è stato un progetto sperimentale alla scuola didattica dell'arte, la prima del meridione per la formazione degli addetti ai lavori e possiamo dire che il nostro obiettivo è quello di formarli da piccoli all'amore per l'arte e per il contemporaneo. Questi bambini hanno avuto l'occasione di lavorare con i maestri, con i professori, con gli studenti già diplomati, i giovani artisti qui in Accademia per 15 giorni e di produrre interamente uno spettacolo, dalle scenografie, costumi, alla recitazione. Un'occasione unica per avvicinarsi al mondo delle arti e dello spettacolo, un'occasione per crescere in un mondo particolare come l'Accademia e un modo per i nostri studenti e per i nostri docenti di mettere in pratica quella che è una didattica sperimentale di alta formazione sui temi appunto della formazione e dell'educazione per il contemporaneo.